segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te lei mi ha detto a parte la battuta le le faccio una battuta se matteo renzi decide di passare in maggioranza e di aprirsi se lo carica ma perché no tutta italia viva clamoroso sta casa ex dell'elezione non lasciamo in forma di battuta ci sarebbe una compatibilità politica mi sembra una battuta si sposano il nostro programma è evidente potrebbe esserci un renzi in forza italia no non ci potrebbe essere non c'è io le storie io sto utilizzando il terzo periodo ipotetico dell'irrealtà quindi valuti lei se è possibile o non è possibile noi noi apriamo sulla giustizia sta aiutando noi abbiamo entrato nel nostro partito l'onorevole chinnici un euro parlamentare che arrivava dal partito democratico no quindi si lascia immaginare se entra qualcuno nel partito vuol dire che aveva le qualità che ha deciso anche di sposare il nostro manifesto politico se renzi decide colpito sulla via di damasco di ritrovarsi improvvisamente un forzista ripeto i daria lo vede meglio da voi o dove sta ma guardi lui deve capire cosa vuole fare da grande però non sono qua per parlare diretti per carità grazie grazie